Patrick Halter parte forte macchina che va via Piuma Bon che assume il comando l'errore di Pascal in torre largo Pirou Starlight quindi Patrick Halter ancora Pachamama poi c'è Princess Di Riolo lungo i birilli in avanti Patrick Halter Piuma Bon ancora Patrick Halter quindi Piuma Bon che cerca di rimettersi alla corda manovra che riesce quindi Piuma Bon in seconda al comando Patrick Halter quindi Pirou Starlight ancora il numero 6 di Pirou Starlight l'errore di Princess Di Riolo Patrick Halter che controlla la situazione in avanti c'è Piuma Bon, Pirou Starlight dalla retrovia Pontidast che viene preso come punto di riferimento da parte di Penelo Pecaf Patrick Halter a menare la danza prende una lunghezza di vantaggio su Piuma Bon che segue poi c'è Pirou Starlight quindi allargo il numero 9 di Pontidast Pachamama ancora Penelo Pecaf Patrick Halter sempre al comando delle operazioni Patrick Halter di Bonalena affronta addirittura apposta alle tribune Piuma Bon poi c'è ancora il numero 6 di Pirou Starlight allargo c'è Pontidast poi Penelo Pecaf quindi Pachamama che ora prova a venire via ma trova un altro versario allargo si tratta il numero 12 in avanti Patrick Halter Piuma Bon allargo progressione esterna di Penelo Pecaf quindi Patrick Halter sempre al comando Piuma Bon ancora Penelo Pecaf poi c'è ancora Pirou Starlight quindi Pachamama in avanti Patrick Halter Patrick Halter nel tratto conclusivo prende vantaggio viene a vincere facilmente al secondo posto nel finale c'è il numero 2 di Piuma Bon sembra che un errore di Penelo Pecaf almeno così è stata la mia impressione rivediamo il rallenty Patrick Halter discorso chiuso per quanto riguarda la vittoria 1 2 3 3 4 6 6